Siamo con la parte 2 Ok Ho saltato la prima missione Tanto era inutile Era solo una preparazione Boom Ho preso l'aria Sì, sto bene Forza, portiamo queste fotografie alla base D'accordo Fu così che scoprimmo dove i tedeschi Conservavano le munizioni di metà del fronte occidentale Le foto di Wilson avrebbero permesso di organizzare un assalto C'era solamente un problema Non ne sono sicuro Avanti andiamo Siamo stati davvero grandi Ci daranno delle medaglie Non dovevamo neppure trovarcela Quando il comandante vedrà le foto non gli importerà Siamo stati grandi Illusare molto Facciamo un fatto Se facciamo questa cosa Allora devi farmi una promessa Mi riporterai a casa, ok? Ma c'è Prometti Voglio la tua mamma Va bene Tu resti E non E non Vieni Va bene Quel tizio è la sua faccia Anche se era un po' troppo ingegno Signore Potremmo Per tutti i stessi E il tuo più amore Un vero è la propria Si carica pure la mappa intanto Prima cosa Dovevamo distruggere i bambini da spazio Gesù Pensate a vedere su quei palloni Una nera crocchi Poi dovevamo occuparci Dei loro autocarri di controllo Dal nostro arrivo L'assalto era già in pieno suolgimento Dovevamo eliminare tutte quelle difese Per poi scontare i bombardieri sul versato Non sarebbe stato facile Ok Sì ma basta parlare Ci prego Cioè tipo Ah sì già Perché Sembra il 4 luglio No ma dai non scoppia Sto schifo Perché non sanno Mi sanno sparare Eh sparare con i palloni Cioè una Una cavolo di C'è un botte di bombardamenti Non ho capito Ok Tanto ammazzo Doveve sanno Oh ve l'ho preso Cavolo No No Andiamo da questo Sì Grande Sono bravissimo guarda Proprio L'aereo No Perché non me l'ho appeso Vai Eh Cerchiamo di strada Allora dacci però Boom Che bello Proprio Ok È un amorto Cioè è distrutto Ah ok Ne basso Questo Ok Ok Ripariamo la Lì L'aereo No Oddio Ma perché stanno seguendo Per forza me Tutti schifi Lì Non siete morti Ok Zio Zio Non ho distrutto No Non ho capito si vatte a schiantare forse facile oddio oddio spara boom no oh mio dio oh perchè non mi spara oh mio dio stavo per morir oh ok come lo contrario no allora prende tutto chi aerei mi stanno dando veramente fastidio dai non si sta l'ho preso ma perchè non me li prendi non so non so come ho fatto però va bene sparacuio perciò questo è facile sopra da terra stiamo guardare tu vedi contro aerei oh mio dio bellissimo bellissimo ok ora se non mi riprende eh che cavolo eh non posso più se rifasso cosa te ti voli colpisco con le ruote bellissimo bellissimo no ma dai non è distrutto ti schifo e lo so che ci abbiamo in coda davanti non si distrugno non si non si non si finché non ti distrugno non si non si non si distrutto si manda a chi è che vuoi dire e se tu non lo devo realizzare sono felice ok buongiorno oggi cittadini ormai distrutto dicendo poi la distruttura non ho distrutto il conto l'integravo e dai monomani distrugge che schifo caro stai non so che ci dobbiamo pensare no, tu sei facile pensare e moria ottimo lavoro vai bombardieri seguiamo la formazione acquista come abbiamo perso non toccarlo non toccarlo, cavia umana no, sto prendendo il bombardiere oleato bellissimo sì, ma dai che cavolo e morge no è molto schifo, ormai mori no il bombardiere non toccarlo ah ma quelli vanno distrutti che questi sono un'entraere e che cavolo che cavolo che cavolo è un tattivo oddio schifo schifato a peli ah dov'è? ma chi è? ah la controaerea è moria schifo schifo chi mai facciano che arrivano semmo è seguito cazzo puoi cazzo vabbè lo distrutto vabbè 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 non Non toccate i nostri bombardieri. No, perché non me l'ha preso? Non toccate i bombardieri, stupidi, aerei. Oh, alleluia. Ecco, ora mo' dovrebbero fargli esplodere. Proprio, letteralmente. Spuuu. Spuuu. Ma ne rimane uno. Spuuu. Mamma mia. Atterriamo perché noi siamo forti. No, 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 non così si atterra. Che fa? Che fa? Spuuu. Ci hanno preso, che bello. Penso io, ma che devo fare? Infatti. Come no? Ma io non avevo dei problemi in venti da rispossare. Come? Cioè, oltre ad esserci il nemico. Cosa dovevi? Sei pigliato. Ah, hai trovato il paracaduto. Per raccogliere l'esca. Ah, bello. Come si lanciava l'esca? Ah. Ah. Ah, forse prendo la pala. Eh, infatti. E lo fa da un sideri. Eh, eh sì, me ne sono accorto. C'è il silenzatore? Allora no, sì che usiamo la pala. Sì, sì, sì. 6 come faccio non vedermi che no c'è un po' per un attimo il coso con l'aggiunta di metà della popolazione di berlino tutta pronta a minare l'alba ah ok che cosa c'è si cosa so oh va meglio basta questo mi piace ok meglio meglio ok 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 che 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 Grazie. Ok. Ma lui è a urlare? Ah, ok. Cioè no, concordo, anch'io. Non so cos'è detto, ma va bene. Tanto ora muori. Ma... Questa è un po' Questa è un po'? Ok. Questa è un po'? Questa è un po'... Questa è un po' Questo... Basta. No, non è così. Chi-chi-chi. No, non è così. No, non è così. No, non è così. Non è così. No, che c'è qualcuno. No, che c'è qualcuno. Non so come ho fatto. Però va bene. Perché era morto? Ho capito perché era morto. Meno male. No, cosa meno male? Mi ho trovato. Non so come ho trovato questa mazza. Si sono arrivati tutti. Ma che bello che è che mi sta sparando. Spum. Ah, c'è pure il silenzio testo. Scappa. Pronto. Mi fa. Sto andando. Ok, non mi sa più. Dele canate. Alleluia. Mangiatevi. Comune. Quest'arma c'è il silenzio. E mi va bene. C'è questo. C'è il silenzio. Un fucile a pompa. Oh se lo compie con questo. Eh, eh, eh. non so se è il sinistro ok mi è scoperto non un tanto Ok Oddio Che belli tovi